La prima domanda deve chiederla a Berlusconi, non a me, non le posso essere utile. Ho già detto all'inizio di questa conferenza stampa che non ho alcuna intenzione di polemizzare e ho l'intenzione di proporre quello che noi stiamo cercando di fare. Questo è il tema della nostra conferenza stampa e su questo insisterò. Per quanto riguarda la seconda questione, nel centro-destra che noi immaginiamo, alle regole indicate, all'alternatività chiara al governo Renzi, alla costruzione di un centro-destra moderno che sia alternativo e fatto di contenuti può aderire chiunque lo riterrà utile e possibile e lo riterrà compatibile con le loro valutazioni. Certamente non sta a noi dare patenti, noi stiamo costruendo un riferimento culturale e programmatico al quale richiamare gli elettori e i quadri dirigenti. Chi riterrà opportuno partecipare sarà benvenuto. Non ho capito bene quanti sono quelli che hanno firmato, hanno dovuto l'associazione che oggi... Lo saprete, molti sono presenti qui, li potete vedere, molti parlamentari, altri non... Dica 33 o... Altri non... Dica 33, non lo so, questo è il problema. L'Italicum imporrà determinate scelte. Le nostre affidurano... Lei ha già...